sfide 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 ciao amici e ciao giada ma che stai dicendo? ciao johnny e ciao amici niente mi stavo allenando a dire la parola sfide più volte possibile in 30 secondi e perché? beh johnny Lo sai che a tutti e due piacciono le sfide A te quelle con i collezionabili E a te le challenge E quindi E quindi proprio oggi È la puntata speciale in cui facciamo vedere Le bellissime challenge che abbiamo fatto Qui al Gourmity Show Ah wow ma è bellissimo Anche se non sono le sfide in cui io sono Proprio fortissimo Però sarà molto bello rivederle E allora che sfide siano Però prima ricordiamo ai nostri amici Di mandarci tutti i loro bellissimi disegni A gourmityshow.gourmity.com Certo Giada Stiamo ricevendo davvero un sacco di disegni Chissà che non faremo una puntata speciale Solo per quello E allora amici mi raccomando Continuate a scriverci Mandate i vostri disegni, le vostre foto I vostri saluti, tutto quello che volete Perché noi vedremo proprio tutto quanto Ma ora Sfide 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 Ok Johnny Ho capito se già in modalità sfida Allora buona visione amici Ciao Sfide 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 Scusami Giada Avevi detto che giocavamo Non che buttavamo via la spazzatura Guarda che una cosa davvero molto importante Allora qui abbiamo quattro contenitori Che simboli vedi? La plastica, l'indifferenziata, la carta e il vetro Giustissimo Allora adesso impareremo a buttare via tutte le cose che non ci servono Negli appositi contenitori Così alcune cose potranno essere riciclate e le materie prime riutilizzate Come la plastica, il vetro, la carta e l'alluminio Vengono portate nelle ditte apposta Vengono lavorate così le materie prime possono essere utilizzate Giustissimo E questa cosa anche riduce molto l'inquinamento del nostro pianeta Facciamo così Facciamo questo gioco e vediamo come buttare via questi rifiuti Ok allora iniziamo Questo dove lo buttiamo? Vabbè questa è carta Ovviamente non è la carta No non è carta Guarda bene che cos'è Plastica E quindi va buttata nella plastica Basta finito Avevo ripulito tutto Brava Visto è stato divertente vero? Sì Gianni ora è arrivato il momento di nuova Gormitica Challenge Giada sono molto contento quando arriva questo momento Perché posso sfidarti di nuovo Ma dimmi un po' cosa faremo oggi Allora vedi questi due contenitori? Sì All'interno ci sono tre gormichi E dobbiamo indovinare di che gormita si tratta Ma Giada ma che challenge è? Ma scusami è facilissima Cerco il gormita tra il polistirolo Lo tiro fuori e ti dico che cos'è Ma non è che ci vuole un genio? No no carino Non funziona così Abbiamo una benda qui E saremo bendati a turno E dovremo indovinare in 5 secondi il gormita Ma così però è molto più difficile Eh sì Però visto che io sono un gentiluomo Prego faccio iniziare a lei Adesso ti bendo così non vedi più niente Va bene dai Sei pronta? Sì A perdere Simpatico Allora io conterò il tempo va bene? Allora Ok Vai qua giù Brava Non è qui Ok sto scherzando Eccola qua Sei pronta? Ferma Aspetta 3 2 1 Challenge iniziata Vai prendi il gormita Quello che trovi Vai ce l'hai Vai prendilo 1 2 2 3 4 Eh? Non lo so Vedremo Poi Cercare un altro Mi sa che stai Sto cercando Sto sottovalutata Giada Questa? 5 secondi sono già passati però Eh Titano? No È sbagliato Via Vai cerca l'altro Cerca l'altro Cerca l'altro Veloce 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 Se indovini questo Giada Il Gormity Show Per me si chiude qui Voidus No no È sbagliato Vai challenge finita Scopriti Giada Hai indovinato uno È Goro Ma te Davvero Goro Vedi roccia Ci sono rimasto E poi vabbè c'è Lord Carrion E Orion Tocca a me Vediamo se fai meglio Siamo 1 a 0 Vai Ti pendo io adesso Ti aiuto Sì perché è il cappello Il cappellino Non guardare però Mi sto guardando Sicura? Ok No non vedo nulla Ok Pronto? Vado Vai L'hai fatta un bel Aspetta Eccolo Non lo so Del fuoco No aspetta Finiti No aspetta È finita Spara un nome Non mi viene Aspetta Dai che sono finiti Non lo so Non mi viene ora Davanti No devi sparare un nome Non vale Non mi ricordo Non mi viene Koga Non è Koga Però sembrava del fuoco Perché al codino Ho sentito un codino Dalla testa Questo Oddio È veramente difficile Finiti Ma sono difficili Scusami Non lo so Non importa Devi dire un nome Che pure ho detto i nomi Lord Titano No Non lo so Ho sparato Aspetta Hai trovato l'ultimo? No eccolo qua Dai 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 Dammi un indizio Eh non posso Dai ti prego Al mantello Eh al mantello Sono per finire cinque secondi No dimmelo 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 Non lo so Avok No Non so Finita la challenge Vai togli No non tolgo Come non togli Devi vedere la tua perdita Eh però avevo indovinato C'aveva il codino Eh sì Quello avevi quasi indovinato E Titano Titano Ha detto che era quello Vabbè però c'era Però c'era un Titano Va bene vinto tu Brava Fai una delle tue magie È stata stra divertente questa challenge Sì Yeah 相信 Sì Tantina Tentina Tentina Partina Parker C'est C'est Sous Le